Allora, un cordiale buonasera e benvenuti a tutti, ed è veramente con grande piacere che di fronte ad un pubblico così qualificato e così numeroso, se consideriamo che spesso incontri di questo tipo vanno completamente deserti, do inizio ai nostri lavori di questa sera. Come tutti sapete l'oggetto principale, lo spunto per questa nostra riunione è rappresentato dalla pubblicazione della seconda edizione del volume di Gianfranco Bronzetti, che saluto e ringrazio molto per essere presente qui con noi questa sera, sull'autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Io dirò solo due parole per spiegare il senso, direi, del focus, che penso sia opportuno mettere su questo volume, che è di duplice natura, se permettete. La prima è la natura, se volete, un po' corporativa, un po' accademica. Quando un collega produce un libro, un manuale, un lavoro significativo, penso che sia quanto mai opportuno che i suoi colleghi di facoltà o ex colleghi di facoltà tributino a questo lavoro il giusto rilievo. Quindi questa è una cosa, diciamo, fra di noi. Diciamo che è sempre una gioia quando un collega produce, a maggior ragione, la seconda edizione di un volume. Il secondo motivo invece è meno corporativo, ma se volete più comunitario o più istituzionale, ed è che questo volume ci consente di mettere in evidenza l'incertezza delle fonti del diritto che disciplinano la nostra autonomia. È un'incertezza legata al fatto che lo statuto è datato, che lo statuto non è stato aggiornato dopo la revisione del 2001. E sappiamo tutti che molte volte l'individuazione delle competenze, ma poi anche il contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale, si svolge sulla base della cosiddetta clausola di maggior favore contenuta nell'articolo 10 della revisione del 2001, che è un fondamento sempre molto fragile, a maggior ragione, ripeto, in sede contenziosa. Ma poi abbiamo avuto molte norme di attuazione, abbiamo avuto delle deleghe legislative, penso ad esempio in materia universitaria, e da questo punto di vista credo che soprattutto per i pratici sia sempre un'ardua impresa quella di avere quella necessaria garanzia, quella necessaria tranquillità per porre in essere iniziative di natura legislativa e iniziative di natura amministrativa. E sappiamo, d'altra parte, quanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale sia intervenuta in termini restrittivi nel corso di questi ultimi 10-15 anni. Ed evidentemente anche le sentenze della Corte Costituzionale fanno parte di questo sistema delle fonti che è tutto affidato all'interpretazione. Allora, questo evidentemente non rappresenta una base razionale per esercitare la funzione di governo. E io a maggior ragione direi quando si tratta di autonomia speciale non vorrei mai che ci si accontentasse della governabilità, che a mio giudizio è sempre una dimensione riduttiva rispetto alla funzione di governo. La funzione di governo ha bisogno delle sue certezze e fra le certezze essenziali vi sono anche quelle normative. Ecco allora che il volume di Gianfranco Bronzetti ci illustra, e poi farò alcuni riferimenti nel mio intervento vero, questi sono solamente i saluti, una breve introduzione, ci mette in evidenza tutte le incertezze che allo Stato attuale abbiamo. D'altra parte non intendo dire che la mancata revisione degli statuti dopo il 2001 sia stata un'operazione improvvida, anche perché i tempi e il clima politico non sembrava favorevole ad una revisione, ma da questo punto di vista anche oggi forse il clima non è così favorevole alla revisione. E vengo allora a un ulteriore motivo che ci ha spinti a organizzare questo incontro, ed è di fare una riflessione di profilo medio-alto, come si conviene ad una sede accademica, su che cosa succede dopo il 4 dicembre del 2016. Perché vedete che ancora una volta dopo quella data, dopo l'esito del referendum confermativo, il tema dell'assetto regionale è completamente uscito dal focus dei media, direi anche del dibattito politico, del dibattito istituzionale, tutto preso, e capisco bene che debba essere così, dalla legge elettorale, dalla prospettiva delle elezioni che potrebbero essere più o meno ravvicinate. A mio giudizio, e credo che questo sia il compito dell'Accademia, rimangono invece tutte intatte le ragioni per una riflessione sull'assetto regionale. Nessuno ha pensato che la revisione del 2001 non fosse priva di pecche, nessuno pensa che quelle pecche non possano essere sottoposte ad una revisione operazionale, puntuale, ad hoc, su singole questioni. Esistono altri motivi sui quali occorre riflettere. Numero uno, siamo sicuri che non ci possiamo aspettare, che non possiamo richiedere alle regioni italiane, e includo anche quelle speciali, o almeno alcune di quelle speciali, un sussulto di orgoglio di fronte, mi permetto di dire, nella mia ottica personale, allo scampato pericolo di una ricentralizzazione, che però deve essere accompagnata da una riflessione su come razionalizzare l'assetto regionale italiano. Siamo sicuri che voi pensate, per esempio, che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, 4 o 5 giorni fa, ha deciso di chiudere la Commissione regionale per le riforme istituzionali che aveva attivato come possibile seguito del referendum. Allora, a me francamente questa sembra miopia, così come, mi sembra, non sia sufficientemente all'ordine del giorno una riflessione sul regionalismo differenziato, che pure era una delle prospettive più interessanti, più costruttive del progetto di revisione del 2016. Mi riferisco in particolare al 116, credo che tutti voi siate addetti ai lavori, quindi sappiate di cosa parlo, la possibilità di prevedere, attraverso un'intesa con lo Stato, ulteriori forme di autonomia su una serie di materie. Ecco, allora credo che spetti all'Accademia mantenere viva la riflessione su queste tematiche, proprio per essere sicuri che non tutto venga meno, diciamo, tutte le aspettative di miglioramento e razionalizzazione dell'assetto regionale italiano non vengano meno con la fine del dibattito referendario, ma soprattutto che non vengano meno gli spunti, le occasioni e gli stimoli per riproporre le ragioni delle specialità, che evidentemente per noi è uno dei punti prioritari. Ecco, allora noi oggi siamo qui, diciamo, per fare il punto della situazione, grazie al lavoro di Gianfranco Bronzetti e dell'ausilio dei colleghi, che ringrazio moltissimo, Fulvio Cortese e Damiano Florenzano, tutto persone note che non hanno certo bisogno di presentazione, per poi affidarci al dibattito e rivolgere poi la nostra attenzione al contributo di Lorenzo De Lai, che ringrazio ancora una volta per essere qui presente, e non a caso delle sue tante qualifiche ho preferito il Presidente della Commissione Paritetica, perché personalmente vedo nel metodo negoziale e quindi nelle norme di attuazione, quindi nel ruolo della Commissione Paritetica, una delle specificità che occorre non solo mantenere, ma addirittura potenziare. Ci ho detto, vi ringrazio della presenza, ancora una volta, dell'attenzione e cedo subito la parola al collega Damiano Florenzano, che sarà il primo a introdurre il lavoro. Buonasera a tutti, ringrazio Roberto per aver pensato a me e darmi l'occasione di presentare il volume del collega e amico Gianfranco Bronzetti, che saluto caramente. Ora, le mie poche considerazioni si dividono in due parti, la presentazione e qualche considerazione del lavoro, non tanto un giudizio ma la sua presentazione, e poi qualche considerazione finale su, diciamo, su gestioni che il lavoro provoca. Allora, il lavoro, l'opera del professor Bronzetti, scorrendola già dall'indice, fa subito balenare una struttura molto precisa, una struttura quasi da manuale, non da manuale operativo, ma da manuale, nonostante il titolo sia molto ampio e generico, l'autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Per ampio ambito e per metodo si struttura come un manuale, per cui, a parte i contenuti e gli esiti ricostruttivi e il giudizio sugli stessi, il lavoro si presenta anche con un'iniziativa editoriale specifica, che va riguardata anche sotto questo profilo, proprio perché, non a caso, coglie un vuoto, riempie un vuoto, va a riempire un vuoto, perché se andiamo a cercare lavori di tipo manualistico, sull'autonomia e sul ruolo delle regioni e delle province autonome, troviamo tanti saggi, ma non troviamo più aggiornati manuali. Il vecchio datato a Reggio Daci, ce lo ricordiamo tutti, però poi troviamo dei lavori che sono ad opera dei colleghi che lavorano soprattutto a Bolzano, ma che riguardano la provincia di Bolzano, oppure c'è il lavoro recente della professoressa Baroncelli, profili costituzionali dell'Alto Adige, già pichè del 2015, però, che per l'ammissione degli stessi autori ha un approccio volto a garantire l'apprendimento quasi elementare per chi non ha dimestichezza con la lingua italiana. E poi c'è la lacuna della collana dei toscani, la collana di diritto costituzionale regionale, che non conosce ancora il volume, la puntata, la Regione Trentino-Alto Adige. Quindi, già per questo, merita di essere segnalata come un lavoro che interviene a colmare un vuoto. Certo, poi ci sono moltissimi saggi, e qui non posso parlare perché vicino a me, a un metro, c'è il professor Attonianti, che è autore di moltissimi saggi per l'autonomia, e soprattutto anche insieme a qualcun altro che è qui presente, che ho incontrato prima e ho salutato, e anche si segnala per essere uno dei saggi che più di dieci anni fa formulò una proposta anche di statuto, di nuovo statuto regionale, quindi un ripensamento dell'autonomia di cui contenuto, ad onore del vero, vedo essere oggetto di discussione in questi giorni presso la consulta che si svolge presso il Consiglio provinciale. Ad esempio, la menzione dell'accordo dei gas per i gruppi nel preambolo era un'idea già allora indicata nella proposta dei noti saggi. Allora, ritorniamo al manuale, scusate, quindi raccoglie i dati rilevanti, fa il punto, e ciò avviene, oppure in un periodo storico particolare, aspettavamo l'esito referendario, poi sappiamo tutti come va da finire, e comunque il volume comunque si inserisce quando la legge provinciale istituitiva della consulta è già approvata, quindi attende la revisione statutaria. Fare il punto in questi casi è utilissimo. I capitoli come sono ordinati? Sono ordinati in modo, diciamo, tradizionale, però con proporzioni non consuete. Abbiamo un primo capitolo sull'autonomia, dove l'autore affida la definizione dell'autonomia attraverso la descrizione di alcuni temi, qua è lo statuto come fonte e la tutela delle minoranze linguistici, che poi affronta il problema della questione sulla personalità giuridica dell'ente regione. Poi si rinviene quest'ampia parte sui poteri, sui poteri, quindi sulle funzioni legislative di regione e provincia. Poi il volume snoccia dagli ulteriori capitoli che segnalano per avere oggetto l'organizzazione, le funzioni amministrative e infine, non a caso, gli organi di giustizia amministrativa della nostra regione. D'altra parte la presenza era scontata, quel capitolo era scontato, è doveroso, visto il ruolo che il professor Bronzetti ha svolto per un novegno presso il nostro Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Ora, alla fine il volume termina con un appendice e le appendici, normalmente noi siamo abbiati alle appendici dove noi collochiamo normalmente la documentazione di consultazione, però al termine dell'appendice si scopre un elenco di suggerimenti. Forse in coerenza con il tratto riservato dell'autore questi suggerimenti sono stati posti in appendice quasi a voler nascondere o comunque a mettere lì per non invadere il campo del merito, del merito della politica, visto che sono suggerimenti agli possibili autori di una revisione. Su questi però ritorniamo dopo perché sono quelli che mi provano qualche suggestione. Terminiamo la presentazione, per stare nel mio quarto d'ora, Roberto va bene il quarto d'ora, non di più, anche meno, sul valore non è complesso. Allora, il lavoro si segnala quindi per la chiarezza esplicativa dei temi e per l'organicità e la competenza della trattazione. Ora, per competenza intendo una cosa ben precisa, in 200 pagine non si possono trattare tutti i temi, ma quello che penso che l'autore abbia voluto per seguire come obiettivo è la trattazione del tema dell'autonomia, quindi nel complesso il tema è svolto più che compiutamente. Certo non tutti i temi possono essere affrontati o essere affrontati in modo, diciamo, adeguato, approfondito. Certo è che in questo modo, questo volume, il lavoro si presenta come un'utilissima lettura, anche per lettore esperto, che magari voglia accingersi poi in un secondo momento a un lavoro di esame più approfondito. Quindi è una scelta, diciamo, che certamente sembra essere stata coerentemente rispettata in tutte le parti del lavoro. Ovviamente restano che alcuni argomenti, vista anche l'eseguità degli spazi ricoperti, possono essere stati trattati meno oppure coerentemente non trattati. E quindi ritengo non che sia un difetto, ma sia anzi un qualcosa che consente di vedere in poco tempo, a tutto tondo, il lavoro svolto. Vengo adesso alle considerazioni, e vengo proprio a quell'appendice, alle ultime pagine dell'appendice. In quelle considerazioni propositive, così non sono definite dall'autore, si fa riferimento al procedimento di revisione costituzionale, quello nazionale ovviamente, concluso, come sappiamo, con il referendum del 4 dicembre. E a tal proposito, i suggerimenti dell'autore sono separati in due gruppi. Un primo gruppo nel caso in cui l'esito del referendum sia positivo, il referendum costituzionale. Nel secondo caso in cui sia negativo. In realtà poi si attrae i suggerimenti, tutti che perseguono l'obiettivo di aumentare, di incrementare i poteri dell'autonomia, più che l'autonomia. Poteri dell'autonomia anche se differenziali. La divaricazione fra le due proposte, i due gruppi di procedimenti, si incentra su questa ragione. Dice, nel primo caso, se l'esito è positivo, c'è quasi l'obbligo della revisione statutaria. Si parla di obbligatorietà della revisione. Nel secondo caso, invece, trattando di una revisione, semmai facoltativa, io tento di delineare un altro tipo di percorso. Ed è questo quello che, non è una critica, ma è un elemento, una considerazione che mi provoca qualche riflessione. A parte il fatto che io ritengo che quegli suggerimenti possono valere per tutte le stagioni, anche tutti i suggerimenti possono valere anche adesso, essere indirizzati alla consulta o a chi si occuperà di questo processo. Qui a Trento è la convenzione a Bolzano, e anche dopo. Ma mi chiedo, possiamo dire che ci convince questa considerazione, cioè che in caso di esito negativo del referendum non ci sia più l'obbligo, perché prima c'era un obbligo di porre mano alla revisione. Ecco, su questo non sono tanto convinto, anche se prendo atto che questa è una considerazione diffusa. Tant'è che dopo il referendum, poco fa Roberto dicevi tu, c'è stato il caldo di tensione a livello nazionale, ma anche a livello locale c'è chi si è interrogato se a questo punto quale deve essere il ruolo della consulta o della convenzione. Io non vedo alcuna differenza, mi spiego. Prima di tutto per non equivocare sul lessico, facciamo una precisazione. L'articolo a cui fa riferimento il professor Bonzetti nel testo, è l'articolo della revisione non approvata, che era l'articolo 39, il comma 13, che diceva che questo, l'abbiamo visto come una clausola di garanzia per le autonomie speciali, questo no, titolo quinto, non si applicava alle regioni speciali fino all'adeguamento degli statuti, con qualche distingo sul quale adesso non indugio perché non serve. Riforma, non adeguamento. Riforma, sì, è vero, riforma, riforma, vero che l'adeguamento è nella legge, riforma. Però comunque non era previsto un obbligo. Semmai, parliamo in termini giudici, un onere, nel senso che per poter introiettare gli esiti della riforma costituzionale occorreva, perché di fatto non c'era la benevola applicazione in buona parte che abbiamo avuto con la riforma del 2001, cioè l'applicazione immediata per la parte più favorevole. Tutto si fermava e l'abbiamo visto anche come una garanzia per certi versi. Però un obbligo in senso proprio non c'è. Semmai possiamo parlare in termini di necessità politica. Ma allora se lo collochiamo in questo modo, il rapporto che c'era fra la revisione e la nostra revisione statutaria, io non vedo molta differenza con quello che ci aveva lasciato la riforma del 2001. Il famoso articolo 10, causa di tante gioie e dolori di quella legge costituzionale, che prevedeva l'applicazione immediata in buona parte per tutte le autonomie speciali di tutte le disposizioni del nuovo titolo quinto che fossero ampliative dei poteri delle regioni o del ruolo delle regioni, esordisce con questa espressione, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Quindi anche lì si ipotizzava o si prospettava in qualche modo la necessità di un percorso di adeguamento giustamente, ma comunque di revisione statutaria, che non poteva che avvenire con le forme della revisione statutaria. Ora, e non a caso, il lavoro dei saggi è di quegli anni. Il lavoro che avete svolto, e non solo, ma tante proposte sono venute dopo la revisione del titolo quinto. Ora, poco fa il professor Stoniatti faceva accenno magari ad alcuni effetti utili per non avere immediatamente adeguato gli statuti. Io però rilevo che c'è stato anche qualche danno, qualche effetto negativo, perché, e questo non solo per il Trentino e Alto Adige, le due province, la regione, ma anche per tutte le autonomie speciali. Mi spiego. La mancata applicazione, la mancata adeguamento o riforma dello statuto ha consentito l'applicazione del titolo quinto alle regioni speciali, o parte di esso. Questo ha dato la possibilità agli organi dello Stato e in ultimo alla Corte Costituzionale di lavorare sui poteri delle regioni speciali utilizzando il titolo quinto. Il titolo quinto che si pone in una posizione di assoluto vantaggio rispetto agli statuti, basti pensare all'essico utilizzato e ai contenuti datati degli statuti. Per cui noi abbiamo una disciplina, un cocevo di discipline attuale, che è il contenuto del titolo quinto, che fa riferimento a, usa espressioni che fotografano situazioni attuali, a differenza di quelle contenute degli statuti datati. In più, sul lessico e sull'utilizzo di alcune formule si gioca l'interpretazione da parte della Corte Costituzionale. E questo, come già aveva preavvertito Silvestri, avrebbe provocato sicuramente un danno per le autonomie speciali, che sarebbero finite e catturate in un percorso omologatore, omogenizzatore da parte degli organi dello Stato, deputati a quel ruolo, al ruolo che conosciamo. Quindi la mancata reazione, a disegno di qualche anno, volta a introiettare nell'adeguamento o nella riforma dello Statuto dei punti fermi, per essere poi fondati su una norma costituzionale, cosa ha fatto perdere? Ha fatto perdere un po' del contenuto e della specialità, perché siamo finiti per essere omologati, catturati in una logica comune. Senza più contare, e questo mi fermo qui, senza più contare ai problemi del contenuto costituzionale, delle interpretazioni, non ho mai una certezza. Ogni volta che mi viene posta una domanda sulla competenza, l'aspettanza allo Stato e alla provincia autonoma di un argomento, non di una materia, io dico un attimo, devo studiare sempre, non riesco mai a dare una risposta. Mi sembra di non sapere fare più il mio mestiere, o di non aver studiato nulla, che non ricordo mai nulla. In realtà non è così. Bisogna andare a trovare decine di sentenze, recuperarle, essere sicuri di avere raccolto tutto, chiusare sui contenuti di S per trovare una soluzione prudenziale, che non è esaltante. E il Trentino spicca rispetto alle altre speciali, e qui non è assolutamente piageria, perché c'è il Presidente dell'AI, il Presidente della Commissione, perché a differenza di altre regioni speciali, le norme di attuazione, almeno ce lo riconoscono, che abbiamo emanato, sono le norme di attuazione, comunque volte a declinare la nostra specialità, mentre per altre regioni speciali le norme di attuazione sono state utilizzate per declinare il titolo quinto, che è un non senso, se ci parlate è un non senso. Cioè, ho lo strumento della norme di attuazione, che faccio, mi omologo ancora di più al titolo quinto che vale per le altre regioni. Quindi, cosa voglio dire, concludo, parlando del ruolo della consulta della Convenzione, che c'è molto da fare, ma il da fare è già quello di cercare di consolidare in una forma speciale i contenuti che abbiamo già, in parte, già conquistato, ottenuto, più che pensare all'ampliamento di poteri, di nuovi poteri, di nuove competenze, delle quali inizio a dubitare che possono esistere, perché penso che ci siamo già abbastanza estesi in ambiti vari, quanto quello di consolidare, ma non per mantenere quello che abbiamo, ma per poterlo introdettare in una disciplina che sia soltanto regionale, solo nostra, e che sia poi oggetto di esame da parte del governo e dei giudici, non utilizzando il testo costituzionale, ma esclusivamente il nostro statuto, perché questo, in questi anni, è mancato. E questo ha comportato un'attenazione del senso della specialità e della percezione della specialità in quelli che sono i nostri discorsi, che sono giudici. Noi assistiamo ai processi politici, ma non li studiamo, facciamo un altro mestiere. Quindi queste sono le suggestioni che mi ha provocato il testo del professor Bronzetti, e lo ringrazio. E ripasso la parola al Presidente. Grazie mille, il quale restituisce esattamente al professor Fulvio Cortini. Con un grazie a Damiano. Damiano ha già detto moltissime cose relativamente al testo, e credo che vada reso proprio merito all'autore di averci dato uno strumento che non è così frequente nel contesto territoriale in cui ci troviamo, perché un manuale vero e proprio del diritto dell'autonomia speciale ancora manca, però è già stato detto. E in fondo questo è un manuale davvero perché non c'è tutto. Non ci sono le politiche qui dentro. Quindi noi non troviamo in questo testo l'illustrazione di tutto ciò che è stato fatto in provincia di Trento o in provincia di Bolzano relativamente alle materie di competenza. Noi troviamo la struttura organizzativa, troviamo l'evoluzione della struttura e di queste competenze ed è anche da un certo punto di vista molto apprezzabile il tentativo di aggiornare ma di mantenere una forte fedeltà all'impianto originario. Ed è un po', credo sia un merito io credo di questo testo perché già di per sé ci induce a immaginare tutto il discorso sulle trasformazioni di questo assetto come un discorso che necessariamente deve svilupparsi con riguardo alla struttura originaria alla struttura preesistente. Quindi questo è un primo grosso merito io credo del libro. Dopodiché c'è un altro aspetto significativo che non è stato ricordato prima ma è molto utile. Questo aggiornamento che nelle premesse voleva essere anche attento agli sviluppi giurisprudenziali in realtà si citano delle importanti sentenze della Corte su vari aspetti però in realtà questo aggiornamento è molto attento al dato positivo in senso stretto al testo al testo e siamo un po' nella stagione dei testi perché la riforma che non c'è stata ecco era un testo un testo nuovo che voleva nelle intenzioni di chi l'ha immaginata probabilmente superare alcuni aspetti del testo vigente che troviamo ancora oggi. Il fatto che non si parli in realtà delle trasformazioni del regionalismo e quindi anche si parli meno delle autonomie speciali almeno sul piano nazionale dopo il voto del 4 dicembre io lo trovo collegato a questa questione del testo perché anzi tra gli addetti ai lavori si è sviluppata all'indomani del 4 dicembre una discussione simpatica simpatica fino a un certo punto però non oziosa perché si è votato sui testi questo cosa vuol dire vuol dire che il testo vigente quello del 2001 è stato ribattezzato è un battesimo nuovo il voto per cui anzi qualche interprete ha detto anche beh ma non è allora che avendo gli italiani ribattezzato quel testo hanno portato indietro con la macchina del tempo le interpretazioni della corte cioè non è che la corte costituzionale potrebbe cambiare idea su qualche cosa visto che gli italiani hanno ribattezzato quel testo che almeno formalmente è molto più regionalista anzi quasi federalista si diceva all'indomani nel 2001 di quanto non si sia rivelato dopo allora siamo nella stagione dei testi in cui i testi tutto sommato tornano e quindi molte chance interpretative potrebbero essere disponibili allora anche qui un po' un manuale che torna sul testo non è così così sbagliato mettiamo un po' da parte un po' di sovrastrutture che il voto volenti o nolenti bene o male che sia ha messo un pochino tra parentesi sappiamo tutti che gli italiani il 4 dicembre non hanno votato coscienti della giurisprudenza sul titolo quinto perché se avessero votato coscienti di quella giurisprudenza io credo che forse avrebbero votato diversamente no perché perché quella giurisprudenza aveva già da molto tempo depotenziato le come dire aperture abbastanza forti che il testo del 2001 aveva dato almeno formalmente alle regioni ordinarie ma queste aperture le aveva fatte anche alle specialità perché c'è stato ricordato poco fa che quel testo bloccava e blocca formalmente ancora oggi l'applicazione del regime ordinario però sappiamo e Damiano l'ha detto molto bene sappiamo che le virtù lessicali di quel testo sono molto sono molto come dire diaboliche perché introducono dei termini dei concetti delle nozioni un linguaggio che quando è stato scritto lo statuto speciale quando è stato riformato anche non c'erano ancora è un linguaggio nuovo affilato che viene utilizzato su pietanze che sono un po' deboli e quindi queste lame entrano come nel burro volenti o nolenti indipendentemente da ciò che c'è scritto nel testo quindi credo che sia interessante avere tra le mani un libro che ci aiuta a focalizzarci sul testo andiamo a vedere cosa c'è scritto tutt'oggi nello statuto su quali sono state alcune modifiche e andiamo anche a vedere poi l'attuazione attraverso le disposizioni di attuazione cioè cerchiamo di capire cosa il diritto positivo ci dice ecco poi le interpretazioni le possiamo le possiamo le possiamo giocare sapendo che non sono che non sono certo i rilevanti e il libro poi ha un'intenzione molto chiara io credo perché si vede ed è dichiarata dall'autore perché nella prefazione alla fine della prefazione si dice che con questo con questo testo gli obiettivi che l'autore vuole perseguire sono due uno analizzare le competenze i titoli di competenza della regione e delle due province e poi ci dice costituire uno strumento conoscitivo per le eventuali iniziative conservative e se possibile di rafforzamento della suddetta specialità autonomistica allora il testo vuole mettere al centro il diritto positivo per come si è consolidato per com'è perché l'autore ritiene che possa essere un'operazione significativa per ragionare su come mantenere quello che c'è oppure eventualmente aggiustarlo con qualche rafforzamento l'ottica è quella di una manutenzione progressiva delle conquiste statutarie non è quella di una revisione quindi è come se l'autore ci dicesse guardate che in questo clima così così incerto e del resto quando è stato pubblicato pendeva ancora l'incertezza dicevamo del referendum costituzionale il massimo obiettivo possibile che ci si può porre è quello di una manutenzione sappiamo che questo non è un termine solo del linguaggio comune o che può essere acquisito dal linguaggio politico ma è un termine anche tecnico perché sappiamo che nel dibattito degli addetti ai lavori spesso si ragiona in questi ultimi anni sull'alternativa revisione riforma o manutenzione anzi spesso si ragiona addirittura sulla riforma dei testi aventi la forza costituzionale non tanto per cambiarne il contenuto quanto per cambiarne la procedura di modifica per ammettere procedure diverse per la manutenzione come dire si è acquisito che non è necessario ineludibile cambiare tutto probabilmente è necessario manutenere e farlo quindi con procedure eventualmente diverse che nel caso della specialità e qui trovavo una sollecitazione nell'introduzione che penso avete avvertito tutti del professor Toniatti per la specialità questa procedura di manutenzione potrebbe essere anche una generalizzazione in senso forte di un metodo apertamente bilaterale molto noto e molto sperimentato nel caso delle norme di attuazione ma che potrebbe tranquillamente essere utilizzato non per revisioni dello statuto ma per manutenzioni e quindi anche per quei rafforzamenti a cui l'autore di questo testo cerca di alludere nel descrivere come dire le evoluzioni del diritto positivo per la revisione però il tema della revisione resta come dire sul sul tappeto e l'autore ne è consapevole tant'è vero che in appendice non fa solo la sua proposta ma ci mette il testo della legge provinciale di Bolzano sulla convenzione e quella di Trento sulla consulta ecco per la revisione che fare cioè tutto ciò che troviamo in questo libro è come dire un ostacolo che va superato e rivisto oppure è qualche cosa da rafforzare ecco a me sembra di leggere questa seconda questo secondo stimolo però sul punto ecco la penso un pochino come come Damiano Florenzano cioè nel senso che vuoi per per i problemi linguistici e interpretativi che dicevamo prima vuoi perché è cambiata anche la legalità costituzionale sull'autonomia e su questo tornerò tra poco il mettere nero su bianco su un testo nuovo le prerogative delle specialità è operazione molto opportuna allora perché dico che è cambiata la legalità costituzionale sull'autonomia basta leggere anche le cose che scrivevano i giuristi molti anni fa tra gli anni 70 e gli anni 90 e le cose che scrivono oggi quando parlano di autonomia io ho sempre in mente un piccolo brano di un progetto legislativo rimasto lettera morta che non riguardava le autonomie speciali riguardava la legge sulle autonomie locali un progetto di legge prodotto dal gruppo di pavia 1977 nelle prime pagine del preambolo a questo progetto di legge gli illustrissimi pubblicisti che facevano parte di questo gruppo coordinato dal professor Potosnik ma vi facevano parte Zagrebelsky Onida i più importanti costituzionalisti italiani avevano sentito la necessità di premettere una precisazione sull'autonomia cioè sulla lettura dell'articolo 5 e in queste perché volevano spiegare il loro metodo di lavoro e dicono noi nello scrivere questo progetto non ci siamo posti il problema di quante o quali competenze ce lo siamo posti dopo la prima cosa che ci siamo posti è che al centro ci deve essere l'autonomia cioè dobbiamo dare un significato a questa parola l'autonomia non è il risultato di competenze è il presupposto viene prima prima quella dopodiché decidiamo quali sono le competenze oggi il ragionamento è esattamente rovesciato prima si ragiona delle competenze e poi si guarda quanto e quale è l'autonomia sulla base di quelle competenze è esattamente l'opposto e la corte costituzionale nella giurisprudenza sulla legislazione della crisi in materia in particolare finanziaria ci ha fatto capire di seguire molto questo cambiamento per la corte l'autonomia non ha quel significato così forte che siamo stati abituati a pensare fino all'inizio degli anni 90 per la corte l'autonomia è un concetto relazionale strumentale funzionale che cambia nel tempo e che viene gestita e regolata dallo Stato che è responsabile dell'unità repubblicana e quindi l'autonomia si disegna a seconda di quelle competenze che di volta in volta sia sostenibile riconoscere ai territori cioè proprio la prospettiva inversa ecco perché nonostante questo ragionamento la corte lo faccia più con riguardo alle regioni ordinarie più con riguardo alle autonomie locali in senso stretto comuni province ordinarie diciamo che con le speciali però lo fa leggendo l'articolo 5 e il 5 riguarda tutti allora è chiaro che se cambia questa legalità costituzionale cambia come dire il brodo nel quale anche le autonomie speciali si trovano e allora riscrivere alcune cose può essere particolarmente opportuno anche per riscoprire questa specialità a tutto tondo che è un aspetto sul quale oggi ci si sofferma poco ma è l'ultimo punto che volevo considerare una decina di giorni nove giorni prima del voto referendario nove giorni prima la corte costituzionale ha depositato una importante sentenza la 251 del 2016 tutti ne avete sentito parlare non perché vi ricordate il numero ma perché in quei giorni il presidente della regione veneto che aveva fatto il ricorso da cui è scaturita quella sentenza la sentenza riguarda la riforma Madia una riforma ad ampio raggio della pubblica amministrazione cosa ha detto abbiamo vinto abbiamo rivendicato le ragioni dell'autonomia abbiamo fatto affermare alla corte il principio che lo stato quando affronta riforme di questo tipo ad ampio raggio deve negoziare nella conferenza stato-regioni sempre non può prendere un'iniziativa unilaterale di questo tipo ora la sentenza la sentenza dice cose non così chiare perché in questa sentenza si dice questo da un lato ma si generalizza il ruolo della conferenza stato-regioni nella quale ci sono anche i rappresentanti delle province autonome non sono tagliati fuori no? dalla conferenza sono anche loro dentro si generalizza questo metodo e lo si generalizza sul presupposto e la corte lo dice tranquillamente uno che il testo della costituzione non è stato ancora cambiato cioè che non è stato ancora riformato il modo della partecipazione al centro delle autonomie regionali circa il procedimento legislativo quindi non è stato modificato anche dopo il referendum non è stato modificato per quello ci interessa questa sentenza e il due il presupposto è che sia normale al giorno d'oggi lo dice la corte che il governo nello stato assuma iniziative per disciplinare unitariamente fenomeni sociali complessi usa proprio questa espressione allora questo quadro qui certo spinge lo stato a negoziare nella conferenza ma ci dice anche che è normale che lo stato intervenga a tappeto trasversalmente su tantissime materie per disciplinare fenomeni sociali complessi e questo riguarda tutte le autonomie il ragionamento che la corte fa riguarda l'articolo 5 ancora una volta ecco perché come dire il tema del testo è essenziale probabilmente mantenere non è sufficiente occorre riaffermare occorre rivedere il perché di questa specializzazione come era probabilmente in origine perché una cosa va va detta ed è importante nella logica originaria l'autonomia dell'articolo 5 non serve ai territori nella logica originaria serve perché la Repubblica ritiene che per la costruzione dello Stato democratico l'autonomia sia un laboratorio di cittadinanza sia il luogo in cui si costruisce la democrazia nuova è uno strumento a questo quadro generale fanno eccezione le specialità in cui la dimensione della comunità territoriale situata è invece molto forte allora riaffermare questa ragione con la scrittura di testi nuovi in un contesto in cui si rimette in gioco il significato dell'autonomia nell'articolo 5 diventa indispensabile proprio per questa ragione cioè proprio per non per evitare che lo statuto e le sue modifiche positive di assestamento e di implementazione diventino un luogo di resistenza anziché un luogo di espressione per quello la scrittura può essere utile per quello quindi può essere utile andare al di là della semplice manutenzione ecco qui mi fermo perché le sollecitazioni che il testo e che questo tema offre sono sono ovviamente moltissime grazie bene grazie anche al professor cortese per questi flash che sono veramente illuminanti su singoli punti ma anche sul sul complesso del lavoro e del suo oggetto cioè l'autonomia speciale da 15 minuti mi tiri tu la giacchetta per cortesia quindi sono sicuro di rispettare anch'io i limiti come è stato fatto in passato non ci siamo coordinati prima noi tre però c'è un'incredibile assonanza e convergenza su alcuni punti che ciascuno di noi ritiene opportuno mettere in evidenza e anche su questi punti vorrei un attimo soffermarmi in particolare tu Damiano citavi l'introduzione io cito le conclusioni pagina 187 quando Gianfranco Bronzetti dice che la revisione è facoltativa ma potrebbe apparire sorretta da esigenze di rafforzamento della specialità autonomistica in alcuni punti e comunque nella prospettiva della salvaguardia dei contenuti statutari acquisiti mi è piaciuta molto questa tua conclusione perché pone due obiettivi l'obiettivo della conservazione dell'esistente e l'obiettivo dell'acquisizione di ulteriori spazi e siamo qui al tema della manutenzione o al tema diciamo di una modifica che vada più in fondo su questo lasciatemi dire due considerazioni visto che non se ne è parlato finora a proposito di consulta e di convenzione dico questo perché ho la sensazione che ci siano molte aspettative dai lavori della convenzione e della consulta e a volte io che sono critico del sistema politico ritengo quasi che affidare i lavori alla consulta e alla convenzione sia quasi un alebi per dire ma questo sono stati capaci di fare loro per cui se anche loro non ci hanno portato risultati straordinari non possiamo produrli neppure noi dico questo perché dobbiamo tenere un profilo basso la consulta deve dare criteri e indirizzi principali la convenzione in origine doveva elaborare un articolato che poi discorsivamente è diventato un documento e adesso normativamente con una modifica formale della legge istitutiva è diventato raccomandazione quindi in altre parole siamo diciamo più sul piano del desiderabile che sul piano del probabile il grosso del lavoro ed è giusto d'altra parte che sia così dovranno poi farlo i due consigli provinciali evidentemente nella prospettiva poi di un'intesa nel consiglio regionale e la scelta perché parlo di consulta di convenzione nel contesto della conservazione dell'esistente o del potenziamento perché qui c'è mio collega della convenzione che vive e queste cose mi sembra che vi siano due orientamenti molto diversi l'uno dall'altro nel senso che la convenzione che ha anticipato il momento della partecipazione popolare va palesemente nel senso di un cospicuo rafforzamento dell'autonomia fino al punto che si parla anche di autodeterminazione esterna e cose via ma rimaniamo comunque sul piano dell'autodeterminazione interna e quindi dell'autonomia speciale dell'autonomia forte comunque abbiamo un fortissimo potenziamento dell'autonomia a titolo di esempio l'orientamento attuale della convenzione è quello di trasformare tutte le competenze in competenze primarie o esclusive mentre qualcuno era orientato a mantenere anche le complementari le concorrenti e ora l'orientamento a volte con delle forzature palesi per esempio in tema di ordine pubblico di cui si è parlato la settimana scorsa è ovvio non ha senso parlare di competenze esclusive dell'autonomia provinciale mentre per quanto riguarda il Trentino mi sembra che si vada molto più nel senso di una razionalizzazione dell'esistente quindi un orientamento più prudente da parte della consulta vedremo quale sarà l'esito della partecipazione popolare in Trentino non vi nascondo che l'elemento forse più ricco dell'esperienza altoatesina è la partecipazione vivissima fortissima una partecipazione assolutamente molto sentita non vi nascondo che mi farebbe piacere che al momento della partecipazione popolare anche in Trentino si dimostrasse una passione per l'autonomia corrispondente quella che si vive in Alto Adige sui Tirol forse il fatto che diciamo la passione sia più del sui Tirol che dell'Alto Adige spiega anche questo e spiega eventuali dissonanze rispetto al Trentino comunque staremo a vedere ma certamente in tutti i casi bisognerà possi un problema di obiettivi e di traguardi e dico questo anche perché giornalisticamente ma anche nel linguaggio politico sempre più spesso in Trentino si parla di terzo statuto capisco che non se ne parla in termini tecnici se ne parla in termini figurati descrittivi e così via ma in Alto Adige si è molto attenti a parlare di revisione dello statuto esistente anche perché si vuole essere certi che lo statuto sia ancora la manifestazione dell'accordo di Gasperi-Gruber sicché una revisione totale dello statuto potrebbe disancorare la fonte principale dell'autonomia dall'accordo di Gasperi-Gruber sono delle sottigliezze però voi capite che in contesti di una certa tensione e quant'altro anche le sottigliezze sono importanti quindi bisognerà capire alla fine ripeto quale sarà il risultato del momento proprio della democrazia partecipativa dei due contesti provinciali e su questo evidentemente non possiamo ancora sapere e dico questo e riallascio anche qui con le ultime cose dette dal collega e amico Fulvio Cortese per ribadire che lo statuto a mio sommesso giudizio deve esporre le ragioni della specialità perché oggi manca manca una fonte di questo tipo tant'è vero che spesso soprattutto i detrattori dell'autonomia speciale si chiedono ma perché se dovete essere speciali quali sono le fondamenta della vostra specialità allora credo che lo statuto le debba esprimere e da questo punto di vista c'è consenso la convenzione consulta sull'idea di avere un preambolo d'altra parte anche il lavoro mi permetto di dire i saggi sono altra cosa il progetto al quale ti riferivi era il progetto postale carli toniatti stimolato dalla presidenza dell'AI i saggi sono invece stata diciamo un'esperienza di maggioranza di centro-sinistra autonomista che ha messo ecco e lì c'era per esempio Marco esattamente esattamente quindi due esperienze sempre saggi per la mano del cielo sempre saggi anzi guai guai se no perché voglio tornare ancora un attimo sull'esigenza di esprimere le ragioni della specialità per due motivi e secondo me il preambolo non è sufficiente bisogna che tutta la razionalità sistematica dello statuto esprima le esigenze della specialità tra l'altro mi permetto di dire che nella modifica dell'articolo 116 io su queste cose diciamo tendo ad essere io non ho difficoltà a dire che diciamo la mia lettura giuridica dello statuto è la lettura di un autonomista allora a me piace pensare che quando nel 116 nella modifica dell'articolo 116 sei cambiato il testo lo sei cambiato con un pizzico forse di malizia l'onorevole Boato forse ne sa qualcosa perché il vecchio l'articolo 116 diceva alle regioni elenco sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia che cosa vuol dire lo stato attribuisce alle regioni nella modifica del 2001 si dice le regioni con la lista dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia sembra quasi che il testo della costituzione prenda atto abbia un effetto più dichiarativo che costitutivo e questo mi fa venire in mente una considerazione molto saggia a proposito di Antonio Scaglia che non è qui ma al quale mi sembra giusto riconoscere la paternità dell'idea e le autonomie speciali non sono il risultato del decentramento le autonomie speciali sono il risultato del riconoscimento di autonomia allora giuridicamente non possiamo riconoscere a questa autonomia speciale i caratteri della originarietà perché questi sono tipici dello stato sovrano però dobbiamo riconoscere che vi è una originarietà storica di queste comunità di cui la costituzione repubblicana prende atto e ne prende atto differenziando il fondamento le ragioni della specialità delle ordinarie che è il decentramento e delle speciali che è il riconoscimento di una di una realtà originaria di comunità originaria da questo punto di vista le regioni speciali non sono altro che una mediazione fra queste due diverse istanze sono la forma regionale che meglio corrisponde a queste diversità di fondo diciamo dal punto di vista letterale sistematico e quant'altro credo che il mio ragionamento regga certamente non è un orientamento interpretativo molto diffuso ed è per questo importante che la dottrina sia sempre attenta in materia di specialità quindi primo punto le ragioni della specialità non affidate solamente al preambolo ma intessute nella razionalità di fondo sistematica dell'ordinamento ancora torno ancora una volta al volume proprio per mettere anch'io in evidenza come è assolutamente apprezzabile questa trattazione dei profili istituzionali dei profili di sistema dei profili permanenti il che fra l'altro ci dà modo di constatare quasi una una originalità caro Gianfranco cioè la dignità con cui sui tratti della regione perché trattando della regione in maniera fedele al testo si ha una dimensione della regione che è assolutamente divergente rispetto al peso specifico delle istituzioni quindi ancora una volta un pregio di una trattazione manualistica è vero che mancano le politiche ed è giusto che manchino in un trattato di diritto dell'autonomia speciale mi permetto di dire però che le politiche sono essenziali perché sono proprio le politiche che giustificano l'autonomia speciale e che diciamo rappresentano una proiezione di quella comunità originaria della quale parlavo prima non è un limite ma dico semplicemente che il tuo libro va letto poi anche diciamo con un occhio all'esercizio concreto dell'autonomia ancora tra i profili istituzionali e di sistema tra i principi generali metti quello della inderogabilità della legge regionale e provinciale che rappresenta veramente qualche cosa di formale che come noi sappiamo non esiste più ancora qui anche una volta mi allaccio un po' a cose già dette che però si collegano anche con la mia introduzione sulla incertezza del diritto sulla genericità delle competenze sulla genericità dei limiti da identificarsi di volta in volta capisco che tu forse puoi essere stato un po' viziato dalla tua esperienza in magistratura amministrativa però quando si parla dei limiti armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica si dice naturalmente l'individuazione in concreto di tali principi non è facile non si presta certo a delencazioni tassative richiedendo quello più un intervento interpretativo anche in relazione alla riforma del 2001 poi ancora a proposito del rispetto degli obblighi internazionali più delicato il problema concernente all'estensione dei limiti in parola e che consiste nello stabilire se in virtù di esso lo Stato possa in determinati casi far valere il rispetto dell'impegno internazionale ancora a proposito del rispetto degli interessi nazionali tu dici se ne deduce la sussistenza sotto diversa angolatura valutabile di caso in caso di interessi generali idonei a costituire un limite al potere legislativo autonomo in relazione alle riforme economiche e sociali della Repubblica tu dici è da ritenere ancora presente i limiti in parola che comunque come per gli interessi nazionali andrà avvaliato con riguardo a singole fattispecie eccetera in tutti i casi le competenze e i limiti sono il risultato dell'interpretazione e tu lo dici e non lo dici per esimerti dal precisare ma come hanno detto anche i colleghi perché questo è lo stato dell'arte e torno a dire credo che soprattutto per i pratici e Damiano si è parlato anche come avvocato e come professionista non solamente come professore e pongono l'esercizio concreto dell'autonomia in situazioni molto difficili e tutto questo diciamo può essere molto irritante per lo studente che debba preparare un esame su questo manuale diciamo noi ancora ancora possiamo dire che si ha ragione è vero di qua di là però per lo studente tutto questo è assolutamente irritabile ancora teniamo presente che nello statuto manca qualsivoglia riferimento alla dimensione internazionale dell'Unione Europea e della cooperazione trasfrontaliera e sappiamo invece che in questi decenni queste dimensioni hanno acquisito un peso specifico importantissimo che richiede la delimitazione di coordinate per quanto possibili chiare norme di attuazione tu ne parli come di norme paracostituzionali chiusi proprio questa espressione che mi sembra significativa e qui pongo un suggerimento una proposta una prospettiva nelle prospettive di un potenziamento dell'autonomia e questo è qualcosa che ho presentato già alla convenzione a Volzano proprio venerdì scorso c'è quello di cambiare diciamo la tecnica di redazione dello statuto per quanto riguarda le norme di attuazione noi oggi abbiamo un'unica e generica previsione di norme di attuazione per dare seguito allo statuto io credo che a noi convenga invece modificare questa tecnica e prevedere quella che io definirei una riserva di norma di attuazione cioè come c'è la riserva di legge costituzionale la riserva di legge ordinaria la riserva di legge statale anziché regionale prevedere una riserva di norma di attuazione che di volta in volta possa essere apposta a completamento delle singole disposizioni che prevedono le competenze in modo da potenziare proprio il metodo negoziale come dicevo in apertura questo che cosa comporta questo comporta diciamo di affidare al metodo negoziale la definizione del regime derogatorio della disciplina vigente nell'autonomia speciale piuttosto che nel resto della Repubblica certo questo rappresenta un forte potenziamento del metodo negoziale si tratta di capire l'uso che è stato fatto in passato delle norme di attuazione e certamente le nostre due province sono quelle che hanno fatto l'uso più frequente ma anche più saggio più razionale e certo questo solleva un problema non marginale anche perché è un problema che potrebbe essere risolto in maniera diversa tra Bolzano e Trento ed è quello del coinvolgimento dei due consigli provinciali nell'iter di approvazione delle norme di attuazione perché evidentemente da un lato c'è un valore di trasparenza dall'altra parte c'è un valore di efficienza che fosse dalla minore trasparenza acquista una maggiore efficacia quindi quella tua definizione di norme di attuazione come norme paracostituzionali mi sembra molto importante e da questo punto di vista credo che vada potenziata attraverso questo istituto della riserva di norma di attuazione bene grazie per non avermi interrotto ma spero di non aver debordato dai limiti di tempo a questo punto io direi possiamo avere una decina quindicina di minuti per interventi da parte del pubblico c'è un microfono che può essere autonomamente girato e poi avremo una replica del professor Bronzetti e dovremmo riservare un congruo margine di tempo per le conclusioni del presidente dell'AE 10 minuti ma saranno molto densi qualcuno chiede di intervenire se nessuno chiede di intervenire sapendo che poi uscendo però avrei voluto dire e non l'ho detto prego è un po' imbarazzante intervenire credo perché personalmente purtroppo non ho ancora letto il libro e quindi me lo procurerò rapidamente fra l'altro in questo periodo sono usciti un paio di volumi non so se Roberto li ha già visti ce n'è uno curato da Thomas Benedicter sia in tedesco che in italiano adesso è uscita la versione italiana è uscita perché so che stava per uscire per me l'ha recapitata qualche giorno fa siccome c'è anche un mio piccolo contributo ma riguarda soprattutto il Sottirolo e è uscito proprio in questi giorni uno curato da Giorgio delle Donne con gli atti di un convegno su queste tematiche fatte a Bolzano ma tutte e due riguardano nel quadro regionale ma prevalentemente il Sottirolo è importante che adesso esca la seconda edizione di questo volume il professor Bronzetti che riguarda tutta la regione le due province ma parte dall'esperienza trentina io ovviamente vi ringrazio per tutti gli interventi che avete fatto e quelli che ascolteremo fra poco la mia domanda che mi è venuta ascoltandovi è giustamente avete tutte e tre fatto riferimento al prima e dopo del referendum del 4 dicembre io come Tognatti sa perché abbiamo partecipato a qualche dibattito ero molto più scettico su quel tipo di riforma e anche sul comma 13 dell'articolo 39 ho anche personalmente ricordato che che non bastava un a mio parere un'innovazione di quel genere per coprire tutta la riforma costituzionale perché nel 2005 una riforma costituzionale contro la quale io ho votato in Parlamento e poi ho votato contro anche nel referendum confermativo in quel caso tramutato siccome in questo referendum oppositivo era inserita a regime nell'articolo 116 una forma di intesa per la revisione degli statuti a differenza di questa ultima riforma poi bocciata dal referendum che prevedeva una tantum e in norma transitoria non a regime in costituzione la possibilità di riforma originariamente era adeguamento come ha ricordato Dell'Ai era pesantissima l'espressione adeguamento essendo tutta l'impianto della riforma puntata alla ricentralizzazione poi è stato fortunatamente cambiato quel termine però la sostanza era questa adesso siamo di fronte al lavoro del che il professor Tognati in particolare perché fa parte della convenzione a me dispiace per il Trentino che il professor Tognati sia potuto entrare in questa vicenda soltanto per la porta di Bozzano invece che per la porta principale ma io sto seguendo l'una e l'altra e ho anche qualche amico all'interno dell'una e dell'altra che mi aiutano a seguirla però a me è dispiaciuto questo ma questo non riguarda il professor Tognati ma riguarda chi ha fatto le designazioni e le nomine adesso abbiamo questo duplice processo partita prima la convenzione partita dopo la consulta le procedure sono diversificate fra convenzione e consulta ma come ricordato nel testo nel testo che introduce questo dibattito comunque alla fine dovranno decidere i due consigli provinciali e non basta dovranno decidere in modo tale che il consiglio regionale voti in modo conforme ci possono essere due testi contrapposti fra Trento e Bolzano quindi è un processo molto complesso e poi si tratterà di vedere sicuramente nella prossima legislatura parlamentare che sia a giugno del 2017 o a febbraio marzo del 2018 io preferirei che fosse a febbraio marzo del 2018 trovo una idiozia gigantesca questa corsa alle elezioni che sta prevalendo in questo momento e fra l'altro mi chiedo anche se sarà in questa legislatura provinciale o nella prossima perché a ottobre del 2018 scade comunque anche questa legislatura provinciale e mi chiedo se si arriverà e chiedo a voi ovviamente sia a voi tre che avete già parlato e gli altri due che devono ancora parlare qual è l'opinione a riguardo se sarà in grado questa legislatura provinciale e regionale che si conclude a ottobre del 2018 di varare un testo da presentare in Parlamento che comunque sarà il Parlamento della prossima legislatura legato a questo e chiudo domando scusa della lunghezza ma era anche un modo per rompere il ghiaccio magari qualcun altro interverrà è stato fatto sia da Tognatti all'inizio sia poi dal professor Florenzano l'ha ripreso un riferimento all'articolo 10 io sono uno degli autori insieme a Zeller di quell'articolo 10 della riforma della revisione costituzionale del 2001 e teniamo presente che quella revisione costituzionale era in parallelo con una riforma dello statuto che comunque è stata fatta nel 2001 cioè entrata in vigore nel 2001 che è stato un cambiamento importante della forma di governo dell'AE non sarebbe mai stato eletto lui e poi il suo successore presidente della provincia autonoma direttamente se non ci fosse stata quella riforma dello statuto del 2001 io ricordo le difficoltà della prima elezione a presidente della provincia di Dell'AE nel 2008 quando all'epoca mancava un consigliere per avere la maggioranza che poi in modo un po' avventuroso è stata trovata quindi ha cambiato radicalmente la forma di governo ma solo in Trentino quella riforma dello statuto del 2001 e per quello che so adesso in Alto Adige in qualche modo si sta pensando di cambiare la norma in modo tale da poter arrivare anche loro alle elezioni dirette perché loro e la Val d'Aosta sono le due realtà a livello nazionale che non hanno l'elezione diretta del presidente ma vi chiedo cosa pensate del fatto che è tornata in vigore qualcuno riteneva che sarebbe rimasta in vigore comunque Antoniatti sa che se ne è discusso anche qui in un'altra sala di un convegno l'articolo 10 della riforma del titolo quinto del 2001 qualcuno riteneva fra di voi cioè fra l'accademia diciamo fra la dottrina che comunque anche se fosse entrata in vigore la riforma attuale quella bocciata dal referendum sarebbe comunque rimasto in vigore anche l'articolo 10 del 2001 su questo c'era un dibattito fra voi docenti vi chiedo adesso però comunque impallinato dalla Corte Costituzionale vi chiedo adesso cosa pensate del rapporto fra riforma dello statuto eventuale potenziale futura dopo la convenzione la consulta il Consiglio Provinciale di Trento di Bozzano e il Consiglio Regionale e poi l'esame in Parlamento ma il rapporto fra tutto questo e l'articolo 10 che prevede che tutte le norme di maggior favore introdotte nella riforma del 2001 per le regioni statuto linarie possano essere comunque applicate anche per Trento e Bozzano e per la regione ma soprattutto si tratta delle due province autonome anche se nel frattempo non è ancora stata fatta la riforma dello statuto e parliamo ormai di 16 anni fa 15 anni e mezzo fa grazie Prof. Florenzano oltre all'aspetto giuridico parlando appunto della mancanza a livello regionale dell'approfondimento sull'articolo 5 e sul regionalismo italiano anche la storia è carente su questo esistono manuali di storia dell'inaudi per tutte le regioni d'Italia ma questa in quanto regione trova difficoltà ad essere definita perché siamo di fronte a questo nodo dell'articolo 5 perché effettivamente o si interpreta in senso federalista questo ragionamento o se no se è puramente forma di decentramento hanno difficoltà sia i giuristi anche gli storici a ricostruire la storia di questa regione lo richiamavo come aspetto integrativo a quello relativo alla questione giuridica anche la questione storica sono altri interventi può dare il microfono qualcuno vedi qualcuno che chiede allora anzitutto ringrazio gli altri colleghi ex magari ma insomma sempre colleghi sono ed amici il professor Toneati che ha organizzato il tutto e quindi è stato l'artefice di questo incontro il professor Lorenzano il professor Cortese naturalmente ringrazio l'onorevole Dell'Ai nel quale abbiamo avuto anche altri rapporti in passato di aver avuto la compiacenza di venire a sentire un pochino qualcosa di questo testo sull'autonomia speciale fate i ringraziamenti ecco dovrei prima di tutto dire che mi è parso mi è parso poi non so se è la sensazione ambiziosa che in fondo non ci fosse una critica diciamo così radicalmente negativa dell'opera ma nella sua diciamo interezza nella sua globalità nella sua non corposità perché è piuttosto contenuto ma insomma volutamente tale ecco si presta alla duplice funzione che è stata evidenziata dai colleghi che mi hanno preceduto e cioè la duplice funzione una quella di dare risalto all'autonomia speciale secondo lo statuto vigente dove lo chiamano secondo statuto ma vabbè questi sono i modi di dire insomma lo statuto è nato nel 1948 questo lo sanno tutti no ecco dopo la l'avvento della costituzione repubblicana l'assemblea costituente è rimasta ancora per un po' di tempo proprio per approvare gli statuti speciali di autonomia ecco ne è mancato uno quello che riguardava l'amico Toniatti e cioè quello del Friuli Venezia Giulia perché era aperta la questione di Trieste che si è risolta negli anni 60 e nel 63 c'è stato che è quello invece gli altri sono del il febbraio del 48 e il nostro numero 5 insomma prego a Sicilia l'aveva fatto un decreto legislativo nel 46 e poi si è dovuto naturalmente perché aveva una valenza inferiore rispetto a quanto prevedeva la costituzione si è dovuto trasformarlo puramente semplicemente in legge costituzionale è stato appunto diciamo il secondo perché il primo sono state le norme di attuazione della costituzione ecco ma lì si è radicalmente direi sostanzialmente convalidato quanto la Sicilia aveva già anche perché adesso non faccio disquisizioni lunghe ma si impoggiava sul movimento separatista quindi pensava a una forma di stato federale comunque era una parentesi e se lo era la chiudo subito aperta la chiudo nello statuto di allora poggiante come si sa sull'accordo di Gasperi Gruber che poi era il quarto andato a trovare il quarto legato al trattato tra le potenze alleate insomma si era praticamente dato grande risalto un pochino l'ho mantenuto anch'io non il grande tolgo il grande un grande risalto alla Regione e probabilmente era nella visione non solo di Gasperiano ma diciamo dell'epoca quella di avere una visione territoriale ampia nella quale ci potesse stare l'ambito autonomistico provinciale di Trento l'ambito provinciale di Bolzano con delle competenze che peraltro erano abbastanza elevate per la Regione ed erano forse un pochino meno elevate per le due province quindi il secondo statuto è nato da ragioni di questo tipo insomma cioè è cominciata un po' la battaglia lo metto fra virgolette insomma è stato anche un brutto periodo degli anni nei quali soprattutto l'Alto Adige si tirole insomma gli altotesini hanno detto qui si sta un po' intaccando quell'autonomia speciale che in fondo traspariva dalle poche righe perché erano poche righe dell'accordo dei Gasperi Gruber sulle popolazioni altoatesine sta di fatto che tutto questo ha creato la controversia con l'Austria eccetera eccetera e si è arrivati pian piano alle famose 237 misure che hanno portato alla modifica statutaria quindi allo statuto oggi vigente con le modifiche intervenute successivamente ma come statuto nella sua interezza è il secondo statuto dopo quello del 48 la legge costituzionale è il numero 1 del novembre del 71 poi c'è stato qualche piccolo ritocco e nel luglio del 72 con un DPR che può suonare strano ma era previsto dall'articolo 66 della legge costituzionale di coordinare in un decreto presidenziale le leggi costituzionali che erano raccordavano la legge costituzionale e le modifiche che raccordavano il testo dello statuto nella sua previgenza quindi si è avuto il nuovo testo costituzionale che è quello vigente il quale ha un po' rovesciato i rapporti regione ha avuto un ridimensionamento notevole della famosa potestà primaria 17 date 10 materie poi 2-3 di queste sono praticamente superate dal tempo e penso all'ultima i contributi di miglioria e cose di questo genere rimasta di tipo diciamo ordinamentale e le province di competenza concorrente sono rimaste tre competenze una delle quali è passata primaria e quindi praticamente sono due competenze anche se di tipo un po' ordinamentale l'assio integrativa perché ormai è un po' obsoleta io dovevo parlarne ma è obsoleta lo stesso la parla della previdenza sociale il casse mutuo di malattia non ci sono più quindi è caduta da sola le province invece sono arricchite sono arricchite come numero di competenze poi mi rendo conto che l'esame di ciascuna di queste è delicato richiede tutte le interpretazioni che sono intervenute eccetera eccetera però insomma se guardiamo i numeri sono 29 competenze primarie e sono 11 competenze secondarie insomma concorrenti con le leggi quadro che poi lo Stato ha sempre fatto così poche che è come non ci fossero insomma ecco però ci sono perché dopo c'è il discorso sottoniati dei principi di tipo di ordine generale dei limiti di ordine generale su cui magari torno un attimo se ho tempo a questo punto lo Statuto aveva un po' riequilibrato tanto è vero che c'è stata l'acquitanza liberatoria dell'Austria e si è chiusa quella vertenza poi tempo naturalmente trascorso e altre ipotesi altre questioni sono apparse sono riemerse e pianino pianino si voleva anche in quegli anni si discuteva di un terzo Statuto di Autonomia terzo in questo senso evidentemente concetto temporale più che altro nel 2001 ecco è stato citato più volte la legge che è la numero 3 che nel 2001 poi c'è la numero 2 che riguarda l'organizzazione di casa nostra insomma per capirci mentre quella di cui tanto discutiamo valida non valida accettabile non accettabile eccetera è la numero 3 numero 3 che è stata fatta per le regioni ordinarie con la clausola famosa no che prevede che laddove le competenze maggiori risultassero per le regioni ordinarie queste si estenderebbero automaticamente anche alle autonomie speciali probabilmente detta così è molto facile il problema è capire quali sono le maggiori competenze coglierne la portata e il significato vedere in che misura si estendere perché certo automaticamente vuol dire tutto e anche niente insomma è un concetto quindi che va io praticamente non ho fatto sforzi eccessivi per individuare quali c'è chi l'ha fatto insomma ecco io mi sono limitato a citare in nota laddove mi sembrava di appesantire il testo ho citato in nota altri autori che si sono preoccupati di individuare queste ipotesi come quelle della della competenza così direte residuale insomma che sa come dice lo stesso aggettivo molto incerta per cui si è detto ma insomma è vero che non abbiamo di meno delle regioni ordinarie però siamo sempre a livello interpretativo specie da parte della Corte Costituzionale e questo ha lasciato lo spazio dato lo spazio insomma per la riforma il tentativo di riforma del 2005 che poi il referendum del 2006 è caduto e quest'ultimo in cui si confidava che l'esito fosse diverso del 2004 dicembre scorso insomma del 2016 e invece è stata diciamo una caporetto direbbe qualcuno effettivamente così è stato vero Presidente ora questo non aspetta mai valutarlo così sono andate le cose ecco perché io nella parte sia pure molto brevemente molto sinteticamente dico se le cose avendolo scritto prima andranno così vincerà il no vincerà il sì allora ecco qui c'è quel discorso dell'obbligo siamo obbligati alla revisione qui il concetto di obbligo è un concetto che evidentemente va preso con le pinze forse è un obbligo in che senso secondo me questo era il mio intendimento non so se lì sono riuscito a spiegarmi bene è un obbligo che nasce dalla esigenza di avere quei contenuti che naturalmente erano poi auspicati quelli appunto della riforma e averli anche noi per avere questi dovevamo prima si era detto adeguare eccetera poi rivedere la revisione della revisione concordata con intesa lo dico per il Presidente dell'AI perché ci tiene molto e giustamente del resto l'ho messo in evidenza e beh insomma l'intesa è prevista io non so certo voleva poco perché se una delle parti dopo non accede mai all'intesa una parte non intende intende l'altra intende l'altra però insomma il discorso è che senza intesa non si sarebbe arrivati a nulla e invece questo si doveva pur fare non lo so poi ognuno vede lei che tipo di obbligo è io l'ho interpretato questo da o come significato all'obbligo un obbligo nel senso che insomma avevamo un vincolo per avere i benefici questo era il succo della questione si può dare tutte le terminologie usare che si vogliono insomma secondo me è sempre un obbligo insomma in questo senso ci abbiamo allora a quel punto suggerivo qualche breve indicazione insomma per la riforma del terzo statuto che cosa vorrebbe fare togliere le potestà concorrenti vale solo tanto come dicevo prima le leggi quadro contenenti i principi fissati dallo Stato sono state talmente poche che erano inesistenti e arrivare ad altre forme di modifica statutaria che portassero a a una riforma più consona alla specialità poi arrivo alla specialità non vorrei mica forare troppo e lasciare poco spazio al presidente dell'AIA allora il referendum invece si è concluso come si sa con una prevalenza enorme notevole del no che evidentemente non lo si ha spazi né interpretativi né altro a quel punto io dicevo se vincerà il no non c'è l'obbligo nel senso che ho tentato di spiegare insomma noi potremmo tenersi lo statuto che abbiamo e cercare di conservarcelo bene magari potenziandolo questo io dicevo vuol dire tenerli stare fermi immobili immoti insomma ma cercare di potenziare quel che abbiamo se possibile implementarlo un po' attraverso quali formule ecco io permettevo di suggerire le due formule indicate dallo stesso statuto in fondo e cioè la delega dell'articolo 17 della si vede all'università per capirci no della la delega con legge ordinaria quindi saltando l'iter lunghissimo e molto difficile d'incerto dalla legge costituzionale dell'articolo 138 della costituzione con l'articolo 17 è previsto appunto e c'è ancora che scondelega legge ordinaria lo stato può fidare determinate solo che l'oggetto è un po' striminzito ecco grazie del suggerimento striminzito servizi in materie pubblici che in materie che non siano previsti nelle competenze statutarie e allora qui uno comincia alla ricerca insomma Bozzano si è mosso verso i servizi postali per dire una cosa ma l'avrebbe messa sembra che vada in questa destra ma noi ci siamo beh siamo mossi per l'università fondendo le due cose no? ecco nella legge di stabilità 2010 mi pare no? si è introdotto la trasformazione dell'università in statale in provinciale e si è detto però con norma di attuazione si danno le indicazioni specifiche del suo funzionamento dell'organizzazione soprattutto dei soldini per finanziare il diritto allo studio e tutto il resto insomma che poi indicato genericamente nel capitolo dedicato alla potestà delegata e qui naturalmente il problema è quello di dire piuttosto ci muoviamo anche soltanto sulle norme di attuazione c'è un cenno una pagina del libro mi pare dove parlo delle norme di attuazione perché adesso non è che posso ricordare tutte le pagine e in cui la corte costituzionale oltre a dare quella valenza che ho cercato di sostenere le norme di attuazione le norme paracostituzionali perché hanno la fonte nell'articolo 107 dallo statuto legge costituzionale insomma e quindi non possono essere modificate da legge ordinaria o equivalente decreti legislativi decreti legge insomma e dire beh queste norme di attuazione si hanno sono fonte paracostituzionale però però sono fatte con decreto legislativo allora è la fonte che combinando le due cose io le ho chiamate così paracostituzionali sembrandomi insieme l'ho preso anche ma credo che non ci sia una grande sicuramente non sono norme costituzionali ma sicuramente due cose certe ci sono non possono essere modificate da legge ordinaria ecco questi sono due punti poi diamo tutte le aggettivazioni che vogliamo ma questa è una realtà su cui non si discute poi la corte costituzionale anche in più sentenze non molte ma alcune ha anche dato una dimensione allargata alle norme di attuazione dicendo che possono anche essere oltre che attuative come dice il termine i contenuti statutari anche interpretative in senso lato praticamente allargare un po' la competenza quando è statuariamente risata insomma quindi la strada delle norme di dotazione qui c'è presidente lei che poi ci illustrerà eventualmente può essere quella che intanto possiamo intraprenderla tranquillamente al di là dell'esito del referendum il secondo luogo potrebbe non solo essere di tipo conservativo ma di tipo migliorativo insomma rafforzativo quindi in questo senso penso che tendevo anche a quell'aspetto insomma ecco poi appunti ne ho fatti tanti ma insomma ecco cerco di chiudere perché sennò rubo il è chiaro che trascuro il discorso della corte costituzionale recente del 2016 perché penso che ci porti un po' lontano anche perché era solo riferita alle giorni ordinarie e con piacere invece toccare un ceno soltanto quel problema molto delicato dell'articolo 5 della costituzione a mio modo di vedere qui siamo nella prima parte della costituzione io forse per età e anche per tradizione atavica insomma ho sempre considerato che la prima parte della costituzione quella che contiene diritti doveri eccetera principi fondamentali sia immodificabile o se si modifica sicuramente in meglio qualcosa in meglio ma su questo poi l'assio aperto il parere anche degli altri sicuramente credo sia immodificabile almeno che non lo si migliori l'articolo 5 il quale in fondo che cosa dice dice sostanzialmente che l'Italia è una repubblica ma poggia sulle autonomie riconosce promuove dice riconosce e promuove quindi le riconosce intanto autonomia è qualcosa che è nel testo costituzionale le promuove se può lo sviluppa ecco perché si è allargata adesso comuni le province ma adesso scompariranno pian piano forse vedremo ecco quindi e poi aggiunge quel riconosce nei servizi dipendenti dello Stato il più ampio decentramento amministrativo è tutta un'altra cosa come ha già detto il professor Toneati o canzi qui è il problema di autonomia allora quel dubbio che lui evocava sulla riforma dell'articolo 116 della Costituzione che ha innovato nel senso che la vecchia edizione insomma sembrava allora ristretta allargandola appunto sul piano delle due autonomie provinciale particolarmente perché questo è il succo della questione allora dice ma si è introdotto di colpo l'autonomia speciale senza avere forse connotazioni regresse del concetto di specialità non è facile il concetto di specialità io dico perché è speciale quel poco che ho detto quel poco che ho detto è speciale sul piano formale prima di tutto perché io lo dico nelle prime pagine del testo perché le regioni ordinarie trovano la loro fonte autonomistica tanto poca che sia nella Costituzione quindi è il testo costituzionale la base dell'autonomia delle regioni ordinarie tanto vero che poi con la riforma successiva si è detto che gli statuti si occuperanno dell'organizzazione certo sono approvati dai consigli regionali però i contenuti e per contenuti intendo dire le materie intendo dire anche l'apparato certo l'apparato viene un po' lasciato all'interno dell'ente però non può aggiungere una competenza in più se non attraverso la legge costituzionale cioè la riforma della Costituzione il testo base è questo insomma lo statuto anzi i cinque statuti di autonomia trovano la loro fonte autonomistica negli statuti stessi statuti sono fonti di autonomia formalmente perché leggi costituzionali e direi sostanzialmente perché contengono delle disposizioni riferite a competenze organizzazioni eccetera autonomia finanziaria tutte le varie ipotesi insomma che poi io in modo diciamo così un po' tradizionale ho diviso in autonomia legislativa amministrativa fiscale eccetera organizzatoria che sono disposte stabilite per quella regione per quelle province di Trento e Bolzano perché noi abbiamo troppo o per fortuna abbiamo una situazione un po' delicata perché le altre regioni speciali autonomia speciale meglio dire no Riuli la Valle d'Aosta Salgenia il Nuzio la Venezia è giusta ecco perché arriva dopo è arrivata ma c'è chiudo ecco se questo evidentemente è il motivo formale sostanzialmente c'è una diversificazione sostanziale rispetto a i contenuti possono essere tanti o pochi mantenuti dico sempre aumentati attraverso la strada delle norme di attuazione interpretate secondo i canoni che ha suggerito anche la Corte Costituzionale per non rubare più tempo mi fermo e lascio al Presidente dell'Ai bene mille grazie allora ci abbiamo alle conclusioni ancora un ringraziamento e forse un applauso grazie grazie ma io desidero intanto permettere che non saranno affatto conclusioni nel senso diciamo più pomposo del termine saranno alcune riflessioni finali e niente di più e anche cercherò di essere piuttosto stringato ma vorrei prima di tutto ringraziare per l'invito e mi sento di portare anche il saluto delle colleghe dei colleghi della Commissione dei 12 posto che non mi sfugge appunto il fatto che la mia presenza qui a questo tavolo di giuristi è a questo titolo per l'appunto e quindi porto anche il saluto dei colleghi e intervengo ovviamente con certa preoccupazione perché dopo le relazioni che abbiamo sentito e anche vista la presenza qui di persone che la sanno piuttosto lunga su questo argomento o per incarichi scientifici o per incarichi professionali o per ruoli avuti all'interno delle istituzioni dicevo intervengo con un po' di cautela perché la materia è molto delicata e siamo anche in una fase di particolare diciamo complessità anche politico istituzionale come ben è stato detto devo dire un grande grazie al professor Bronzetti per questo lavoro si dice spesso che l'autonomia è poco conosciuta nelle sue diciamo nei suoi aspetti storici anche se i nostri storici stanno facendo molto per recuperare diciamo su questo piano però forse ancora meno certamente ancora meno conosciuta dal punto di vista della sua impalcatura giuridica e naturalmente questo lavoro colma in parte questo vuoto anche un lavoro che mette in evidenza ed è vero anche il grado di incertezza anche la difficoltà talvolta la diciamo la non organicità del processo di costruzione di questo corpo normativo ciò non di meno è il corpo normativo della nostra autonomia e dunque va assolutamente conosciuto voglio anche ringraziare il professor Tognati perché a parte che condivido lo spirito anche del ragionamento che ha fatto così come ho molto apprezzato anche quello degli altri suoi colleghi oggi ma in particolare desidero ricordare che col professor Tognati la provincia ha lavorato molto in questi anni è stato ricordato il lavoro fatto da lui da Gianfranco Postai che è qui dal professor Carli io personalmente lo considero forse la proposta di lavoro in tema di riforma dello statuto più organica e anche più forte che sia stata fatta ovviamente datata in quegli anni però mi pare che l'ultima pubblicazione è stata del giugno del 2013 quindi diciamo è una base di lavoro piuttosto consistente spero anch'io che appunto Roberto Tognati possa dare un buon contributo in prospettiva a questo lavoro come già sta dando io vorrei limitarmi a tre considerazioni dopo le cose che ho sentito questa sera tre punti che mi sembra siano emersi dalle cose che avete detto e dalle riflessioni che mi hanno provocato il primo punto riguarda le norme di attuazione io credo che sia giusto quello che il professor Bronzetti scrive nell'ultima pagina del libro le norme di attuazione sono uno strumento importante soprattutto in questa fase diciamo post referendum del 4 di dicembre io sono convinto che abbia ragione il professor Tognati mi piace molto questa idea della riserva di norma da inserire nello statuto ma ha ragione a ritenerle e io sono proprio d'accordo su questo come uno strumento centrale io sono convinto che nel medio periodo nessuno sa dire quanto forse sono lo strumento più importante che noi abbiamo a disposizione per tutelare e rafforzare la nostra autonomia sono convinto di questo così sono come anche sono convinto che ormai le norme di attuazione hanno già oggi non da da questi ultimissimi tempi ma da qualche bell'anno hanno già oggi e avranno soprattutto in futuro un ruolo totalmente diverso rispetto a quello per il quale i nostri padri dell'autonomia l'avevano immaginata cioè non si tratta più solamente di dettagliare magari anche rafforzare ciò che nello statuto è previsto ma si tratta di anche utilizzarle di valorizzarle come uno strumento di ampliamento del principio autonomistico io penso penso suonelmente che le norme di attuazione siano e saranno sempre di più una sorta di strumento per preparare in maniera diciamo extra-statutaria i nuovi scenari dell'autonomia questo di fatto è quello che sta accadendo e accadrà sempre di più in particolare su due terreni secondo me che sono fondamentali e saranno fondamentali nel nuovo statuto nella revisione del statuto primo la regolazione delle cosiddette materie trasversali è un punto delicatissimo perché noi parliamo di competenze ma a nulla serve difendere le competenze se poi attraverso il principio delle materie trasversali lo Stato erode quelle competenze dunque il primo punto fondamentale è questo mi pare che sia solo attraverso lo strumento delle norme di attuazione che noi possiamo immaginare di consolidare le competenze che abbiamo rispetto al rischio di erosione da parte di queste diciamo materie cosiddette trasversali ci sono degli esempi anche in piccole o meno piccole norme di attuazione che sono state approvate anche nell'ultimo periodo che vanno un pochino in questa direzione pensiamo alla norma su urbanistica commerciale ma pensiamo anche alle due norme sulla caccia al di là di come la si pensi cioè Stato e Autonomie hanno negoziato il modo attraverso il quale si applica rispetto a peculiari condizioni locali un principio che è assodatamente nelle mani dello Stato oppure pensiamo anche alla norma sugli appalti e sui contratti pubblici o pensiamo alle norme stiamo discutendo in materia di urbanistica financo sconfinando nel diritto civile a riguardo delle distanze tra una proprietà e l'altra dunque questo primo punto mi pare importante le norme di attuazione come diciamo tentativo di difendere le competenze rispetto ai nuovi scenari che stanno venendo avanti in materia di competenze trasversali e in secondo luogo il ruolo delle norme di attuazione come strumento per immaginare praticare in maniera anche molto molto innovativa forme di cooperazione fra l'autonomia e lo Stato attraverso soprattutto il principio della delega all'inizio è stata citata l'università ma possiamo citare la delega norma di attuazione in materia di giustizia che ha visto la luce da pochissime settimane e a Roma vi assicuro che qualcuno strabuzza ancora gli occhi cioè non crede che sia possibile nell'ordinamento del nostro paese che l'intero o quasi personale purtroppo non quello dirigenziale sono due ma tutto il resto compresa la gestione amministrativa logistica eccetera della giustizia che è il cuore uno dei cuori dello Stato sia trasferito alla Regione e dunque sia responsabilizzata l'autonomia su questo punto oppure pensiamo tra parentesi qui c'è ancora il tema del carcere sul quale pure secondo me un'autonomia che voglia essere civile responsabile non potrà non porsi anche il tema secondo me di una possibile norma di attuazione che possa anche in questo senso diciamo risolvere i problemi di civiltà che abbiamo nel nostro carcere oppure pensiamo vado per titoli naturalmente all'altra norma di attuazione che stiamo discutendo che riguarda le agenzie fiscali altro cuore dello Stato naturalmente c'è ancora qualcuno che si strappa i capelli nei ministeri pensando che solo si sia potuto immaginare che le agenzie fiscali dello Stato possano avere possano essere oggetto di una delega alle due province autonome eppure per me questo è importante perché tra il resto come ho anche avuto modo di dire recentemente è un pochino la premessa forse un primo piccolo passo anche se significativo e speriamo di riuscire a farlo per arrivare poi ad una maggiore competenza fiscale e anche arrivare a quel rovesciamento di rapporti fra l'autonomia e lo Stato in materia di chi riscuote e chi dà il gettito devoluto all'altro io penso che questa sia un'altra grande partita fondamentale che fa parte dovrà far parte ecco di un percorso non so quanti anni ci metteremo ma insomma i padri dell'autonomia hanno sognato tante cose che si sono poi realizzate negli anni successivi questo secondo me è un punto importante dunque per finirla io penso che questo primo punto sia significativo le norme di attuazione come strumento forte in questo senso ecco come dire mi pare più importante quasi questo che non la rivendicazione di ulteriori competenze in senso tradizionale anche perché io penso che oggi noi siamo nella stagione delle interrelazioni degli intrecci e dunque come dire la frontiera nuova dell'autonomia si pone più secondo me da questo punto di vista personalmente non cioè manterrei lo strumento delle norme di attuazione anche in prospettiva nel campo del rapporto tra governi capisco che c'è il tema della partecipazione della trasparenza se ne è discusso a lungo però io posso assicurare che se parallelamente al discorso dei consigli provinciali a Roma le norme di attuazione avessero dovuto essere sottoposte al Parlamento non avremmo probabilmente mai visto la luce quindi manterrei questo profilo di patto fra due istituzioni che si estrinseca attraverso una intesa fra i governi che le rappresentano il secondo punto che dalla discussione di questa sera mi pare emerga è quello che riguarda la revisione dello statuto io uso con molta prudenza il termine terzo statuto preferisco usare il termine revisione qui è chiaro che c'è il punto del referendum io ho sempre sostenuto la tesi dei due tempi secondo me era forse prudente immaginare una prima fase di modifica dello statuto che riguardasse i rapporti con lo stato a valle di un'eventuale approvazione ovviamente della riforma costituzionale quindi dell'intesa e un secondo tempo che prendesse in considerazione tutto ciò che riguardava la parte interna dell'autonomia quindi la discussione su come organizzare queste competenze queste funzioni questo potere che nel frattempo avessimo dovuto consolidare ovvio che la sentenza del popolo mette uno scenario totalmente diverso comunque la si giudichi resta un punto comunque secondo me questo punto dell'intesa debole debolissima fragile o meno che fosse comunque nella riforma bocciata dal popolo c'era un minimo di strumento sconsiglierei vivamente di intraprendere un percorso parlamentare senza aver affrontato questo tema nelle modalità che oggi io non saprei esprimere ma insomma il problema c'è e ci sarà sempre di più probabilmente considerati gli equilibri politici che comunque insomma sembra di capire saranno nel nostro futuro sono comunque dell'idea che sia fondamentale la riforma del nostro statuto quindi sono anch'io molto contrario all'idea di un disarmo visto che il referendum ha dato questo esito non c'è più l'obbligo o meno che sia comunque non c'è più l'appiglio mettiamo in disarmo il processo no credo che sia giusto andare avanti penso che sia bene che le comunità le forze politiche possano avere a disposizione il frutto del percorso fatto dalla convenzione e dalla consulta penso però che oggettivamente siamo in uno scenario diverso il tempo di elaborazione approvazione di una riforma dello statuto è un tempo sicuramente diverso rispetto a quello che si pensava qualche mese fa questo può avere anche un effetto virgolette positivo pur nella difficoltà secondo me del percorso e cioè forse questo ci consente di partire del lavoro fatto dalla consulta e dalla convenzione ma di rilanciare fortemente un dibattito sociale comunitario sul tema dello statuto io sono convinto che prima viene la definizione di un progetto di comunità autonoma che termine tutto culturale politico sociale e poi viene la sua traduzione in termini giuridici e statutari ora questo lavoro io credo che va fatto insomma va fatto perché il punto fondamentale è che stanno venendo meno o meglio stanno entrando in tensione per effetto di tutto quello che sta accadendo i capisaldi anche culturali sui quali è nata l'autonomia che conosciamo dunque il tema è quello di elaborare credo io la metto così una sorta di terza via fra il globalismo che omologa e le chiusure nazionalistiche o micronazionalistiche che pure riemergono prepotentemente in questo tempo questa terza via è quella di una comunità autonoma però bisogna aggiornarne le ragioni quindi c'è bisogno quindi cogliamo l'opportunità di un tempo che non sarà breve per aggiungere alla discussione che c'è stata una forte discussione collettiva su questi temi io penso che comunque mi sentirei di caldeggiare veramente che prima di in ogni caso di formalizzare in consiglio provinciale e in consiglio regionale testi di revisione statutaria a valle di questo percorso suggerisco ma credo sia ovvio una preventiva negoziazione politica con il governo e con gli assetti nazionali ma questo è il punto critico perché naturalmente sappiamo tutti come sono gli andamenti quindi ecco perché dico su questo secondo punto dello statuto io penso che valga la pena come dire rilanciare piuttosto ecco più che disarmare rilanciare partire dal lavoro fatto ma cercare in qualche modo di allargare il quadro perché forse questo creerà potrebbe creare anche una maggiore partecipazione una maggiore tensione popolare sul tema statutario e io credo che per farlo poi approvare a livello nazionale ci sarà bisogno non solo di negoziazione politica istituzionale ma anche di forte sostegno popolare terzo ed ultimissimo punto diciamo il contesto nazionale ho colto e io condivido quanto diceva prima Roberto Tognati a proposito del regionalismo in Italia del ruolo che possiamo avere noi non siamo un'isola eccetera sicuramente sì non vedo nulla di buono all'orizzonte quindi io credo che questo riferimento alla possibilità che noi abbiamo nel fare questo nostro autonomo peculiare percorso anche di essere utili alla ripresa di discussione a livello nazionale sul regionalismo lo condivido al 100% ma vorrei dire quasi spesso contra spam nel senso che l'aria che tira è un'aria radicalmente diversa anche da parte delle regioni ordinarie le quali hanno alzato bandiera bianca da questo punto di vista in una maniera per me da regionalista da autonomista assolutamente incomprensibile e dietro c'è c'è anche un qualche cosa di più profondo cioè in realtà si contesta nel regionalismo non solo un livello istituzionale che si dice inefficiente eccetera eccetera ma dietro c'è l'idea che in realtà le istituzioni debbano essere un rapporto diretto fra individuo e potere dunque tutto ciò che è intermedio non ha più nessun senso e dunque questa è la crisi anche dei corpi intermedi la crisi del municipalismo la crisi del regionalismo perché il nazionalismo che sta venendo avanti mette in discussione tutto ciò che sta sotto e tutto ciò che sta virgolette sopra lo stato nazione e il rischio che noi abbiamo è questo quindi io condivido molto questo tema sono convinto che potremmo dare un contributo importante sia come regionalismo in senso lato ma anche per quanto riguarda un tema particolarissimo cioè la governance dell'area alpina quindi questa idea appunto trasfrontaliera il governo della montagna discipline per le minoranze linguistiche che abitano alle Alpi tutti temi che sono molto cari a Roberto Tognatti in particolare ecco vorrei concludere dicendo perché è importante l'iniziativa anche di oggi in questa sede universitaria perché il problema che abbiamo è che serve una trama comune che metta insieme il processo delle norme di attuazione la discussione sul nuovo statuto e questo dibattito anche a livello nazionale sul regionalismo la trama comune che lega questi tre punti non può che venire da un nuovo pensiero autonomistico il nuovo pensiero autonomistico è compito certo della politica ma è anche compito della scienza dell'accademia e quindi io penso che sia molto importante che vadano avanti queste iniziative anzi io spero che si consolidino luoghi di discussione accademica scientifica su questi temi sia a Trento sia a Bolzano per creare un po' più di anche intreccio perché certamente qualche aria da nuovo lo sono trient l'abbiamo colta anche noi e anche a livello scientifico vanno messi gli anticorpi non solo a livello politico e istituzionale quindi io ringrazio molto Roberto Tognati per questa iniziativa credo che sia stato molto utile e grazie a Professor Bronzetti per il lavoro che ha donato alla comunità grazie bene non aggiungo altro perché direi che l'intera serata è stata particolarmente illuminante mi permetto solo di ricordare che a breve nell'ambito delle medesime impegno di questa facoltà avremo un seminario sulle iniziative della Regione Veneto per l'applicazione dell'articolo 116 terzo comma cioè verso il regionalismo differenziato credo che valorizzare le iniziative delle Regioni sia crearsi degli interlocutori e alla fine degli alleati per il mantenimento dell'attenzione sulle vicende del regionalismo grazie mille all'autore ai commentatori al Presidente dell'AI naturalmente a tutti i partecipanti grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille